Buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con lo scontro tra il presidente vicario della regione e il ministero delle infrastrutture sui fondi masterplan per l'Abruzzo. Sono giuridicamente intoccabili, dice, e non si possono anticipare per la messa in sicurezza dell'autostrada, che è comunque necessario. Vediamo il servizio. È un fiume in piena il presidente vicario della regione Abruzzo Giovanni Lolli, che è intervenuto sui soldi del masterplan per l'Abruzzo. Sono nostri e non si toccano, dice Perentorio Lolli, sono vincolati giuridicamente intoccabili. Per Lolli c'è un chiaro errore ed evidente da parte del governo e del ministero delle infrastrutture, che ritiene invece che l'Abruzzo abbia dato il suo ok per usare i fondi del masterplan per anticipare le risorse che servono per la messa in sicurezza dell'autostrada a 24 e a 25. Bene, per anticipare quell'opera necessaria di un'opera dello Stato si usano i soldi della regione. Ora, si possono dire un milione e mezzo di parole, ma fin quando non si risponde a questa domanda, perché vogliono usare i soldi della regione per anticipare? Adesso ieri hanno detto, qualcuno ha detto, dice ma c'è una delibera della giunta regionale che lo chiedeva. Ora, siccome la consigliera Marcozzi, che io stimo moltissimo per carità, che tra l'altro si presenta, forse potrebbe anche diventare la futura presidente di questa regione e dovrà quindi scrivere le delibere, intanto dovrebbe imparare però a leggerle le delibere. Lì c'è scritto molto chiaramente che noi, pur di anticipare questa opera, perché la vogliamo anticipare, già che ci viaggiamo su questa autostrada, ci dichiariamo disponibili a mettere a disposizione anche i fondi destinati all'Abruzzo dell'FSC non trasferito. Se tu mi ometti questa semplice paroletta, mi ometti tutto. Noi abbiamo già trasferiti i 750 milioni del masterplan e quelli non debbono essere toccati, perché sono i nostri e perché li abbiamo già in grandissima parte convenzionati, cioè firmate le convenzioni. Ci sono 11 miliardi e mezzo di soldi del FSC nazionale, una parte dei quali sono anche destinati all'Abruzzo. Prendi quelli che sono i tuoi, perché devi ne apprendere i miei? E la messa in sicurezza delle autostrade è diventata una battaglia davvero a tutto campo che sta infiammando questo avvio di campagna elettorale per le regionali. Centrodestra e centrosinistra si accusano a vicenda con l'ex presidente della regione Luciano D'Alfonso che ribadisce che i fondi del masterplan non saranno toccati. Per il centrodestra, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sono entrambi colpevoli della situazione attuale. Il servizio di Paolo Renzetti. In questa vicenda c'è una vittima che è la regione Abruzzo, delle vittime che sono gli abruzzesi, due colpevoli che sono prima il PD e poi il Movimento 5 Stelle, che oggi bisticciano perché sanno di avere entrambi la coscienza sporca. È stata la regione governata da D'Alfonso che il 9 di luglio di quest'anno ha offerto in quota parte 80 e 20% a carico della regione Lazio fondi che secondo loro non potevano essere rendi contati entro il 31 dicembre 2018 per anticipare la cassa e non la competenza della messa in sicurezza dell'autostrada 24-25, cosa di cui diamo per scontato che al concessionario debba essere lo Stato a finanziare l'intera messa in sicurezza grazie a un emendamento nella finanziaria del governo PD del 2016. Una volta che tu dai la possibilità al Ministero di capire che tu i soldi non li spendi e che li vuoi utilizzare per altro, chi li va cercando per una manovra finanziaria senza copertura li utilizza. La verità è la seguente, i lavori devono essere fatti e non va sottoposto a violenza il masterplan per l'Abruzzo poiché non ce n'è bisogno, servono risorse per completare i lavori che fronteggiano la pericolosità autostradale, lo strumento per consentire questo c'è, noi abbiamo dichiarato la disponibilità delle risorse del Ministero delle Infrastrutture riferite all'Abruzzo, agli obiettivi nazionali sull'Abruzzo. Prendete temporaneamente per alcuni mesi quelle risorse del Ministero delle Infrastrutture riferite all'Abruzzo per poi ricostituire la piena consistenza. La norma che io oggi ho provato a spiegare ed è una norma che debilita l'Abruzzo, l'articolo 16 del DL Genova, non va bene poiché manca di un verbo, manca del verbo che stabilisce il ripristino dell'interezza delle risorse. È una norma scritta male, io ho detto con i piedi, forse anche qualche parte del corpo che sta più sopra, ma di sicuro non è stata scritta con la testa. Allora noi vogliamo attraverso la comunicazione politica ed istituzionale che venga scritta meglio. E la concessionaria Strada dei Parchi comunica che per urgenti lavori di manutenzione dalle ore 8 del giorno 16 ottobre alle ore 19 del giorno 18 ottobre sarà disposta la chiusura dello svincolo di Cocullo, limitatamente al traffico in uscita dall'autostrada A25 con provenienza da Roma, L'Aquila, Teramo e diretto verso la viabilità ordinaria. Conseguentemente nei suddetti giorni ed orari i veicoli provenienti da Roma, L'Aquila, Teramo e diretti verso la viabilità ordinaria dello svincolo di Cocullo potranno usufruire degli svincoli di Pescina o di Pratola-Peligna. Chiudiamo adesso la pagina dedicata alla viabilità e parliamo di politica perché Antonio Zaffiri, sindaco di Colle Corvino, è il candidato scelto dal centrodestra per concorrere alla poltrona di presidente della provincia di Pescara. Sarà sfidato da Vincenzo Catani, sindaco di Picciano e Luciano Di Lorito, sindaco di Spoltore. Vediamo. Presentato questa mattina alla stampa Antonio Zaffiri, candidato alla presidenza della provincia di Pescara. Zaffiri, 54 anni, sindaco di Colle Corvino al suo secondo mandato, è appoggiato da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Udc e Azione Politica e rappresenta con 109 firme raccolte il nome di un centrodestra ricompattato e che cercherà già da questa elezione provinciale di mettere le basi anche per l'affermazione alle prossime regionali di febbraio. Per quanto riguarda la candidatura della coalizione di centrodestra è perché hanno trovato unità e si sono stretti intorno al mio nome ed io ho posto la condizione della compattezza e l'unità del centrodestra perché per il centrodestra è anche un esame di maturità, se posso definirla così, questa elezione perché è propedeutica poi per affrontare le altre competizioni elettorali. Ovviamente le problematiche sono molteplici ma di tutta la provincia e non solo di una parte della provincia. Se sarò eletto la prima cosa è scontata dire la viabilità e la messa in sicurezza delle strutture scolastiche. Ma secondo me non è solo queste due cose. Secondo me la cosa più importante è la riorganizzazione della provincia. Riorganizzazione perché se vogliamo affrontare, se vogliamo raggiungere dei risultati importanti, è organizzare la macchina operativa per poi affrontare quelle priorità che può essere la viabilità, può essere, no può essere, è la viabilità e le strutture scolastiche. L'associazione costruttori edili di Teramo denuncia il rischio fallimento di tante imprese a causa dei ritardi nei pagamenti delle opere pubbliche. Sono passati due anni dal sisma e mancano all'appello 11 milioni di euro sui 20 appaltati. Anche la ricostruzione privata è al palo per carenza di personale tecnico. Tania Bonnici Castelli. È un bilancio pieno di ombre. Quello che fa l'Ance e l'associazione costruttori edili di Teramo sono passati quasi due anni dal sisma e il ritardo nei pagamenti delle opere pubbliche stanno mettendo a dura prova le imprese che rischiano di fallire. Il presidente Raffaele Fallone punta il dito soprattutto sulle opere appaltate dalla provincia di Teramo dopo il terremoto e la nevicata di gennaio 2017. Su 20 milioni di euro affidati dall'ente nel 2017 mancano all'appello 11 milioni di euro. Ritardi burocratici a causa di rendicontazioni che la provincia deve inviare alla protezione civile e le cui modalità vengono cambiate in continuazione. Il problema è che moltissime imprese rischiano proprio il fallimento. Rischiano di fallire perché la provincia è stata brava ad appaltare 21 milioni di euro di lavori però poi non è stata altrettanto brava, quantomeno ci risulta a rendicontare perché noi ancora non riusciamo a capire le cause da dove derivano per questo ritardo dei pagamenti perché non riusciamo a capire perché non ce lo dicono se dipende dal core, se dipende dalla provincia o se non ci sono i soldi. Fatto sta che noi più della metà dei soldi ancora li dobbiamo incassare. Sono circa 10 milioni di euro, sono tantissimi. A distanza di un anno e mezzo, quasi due, le nostre imprese non riescono ancora a prendere soldi. Passaggio accorato del presidente del lancio di Teramo anche sui ritardi della ricostruzione privata 2016. Per Fallone c'è bisogno di nuovi stimoli e di molte più risorse organizzative per ripartire. La nostra regione è l'unica regione che ha il problema della sovrapposizione del sisma 2009-2016. Non ci sono ordinazioni che disciplinano in maniera chiara e netta C'è come gestire questa sovrapposizione. Mancanza di personale all'ufficio speciale di Teramo ci sono 29 persone assunte con contratti ballerini, con contratti disomogenei. E poi sulla ricostruzione un ultimo appello dell'Associazione Costruttori Edili di Teramo a tutte le forze politiche senza una scossa del sistema molti paesi terremotati scompariranno. Cauto ottimismo per la riconversione dello stabilimento Onewell in Valdisangro. Piace la proposta della cinese Emark che ha già una fabbrica con 100 dipendenti a Cerratina di Lanciano. Fumata bianca per la riconversione della Onewell a Roma. L'ultimo incontro tenuto al Mise è infatti aperto le porte verso la decisione finale tra le tre contendenti del sito industriale di Atessa dismesso dalla multinazionale dei Turbo che ha delocalizzato in Slovacchia. Tra la Eldor e la EMM a spuntarla con la migliore proposta è la cinese Emark che lavora a acciaio ed è già presente con uno stabilimento di circa 100 dipendenti a Cerratina di Lanciano. La proposta di riassorbire in due fasi fino a 162 ex lavoratori Oniwell e piace ai sindacati e alla regione Abruzzo. Davide Labrozzi, segretario Fium Chieti. Non è finita perché il percorso è ancora lungo, però c'è questa terza proposta che abbiamo raccolto nel corso di queste ultime settimane che è la proposta Emark che ci piace nel senso che ha una sostenibilità finanziaria, ha dei numeri importanti dal punto di vista occupazionale e quindi noi pensiamo, io penso, che si possa accelerare proprio nella realizzazione di quello che è un percorso che porterà le persone sicuramente a tornare ad avere un posto di lavoro. Soddisfatto del piano industriale EMARC anche il delegato al lavoro della regione Antonio Innaurato. Diciamo la soddisfazione maggiore che tutte e tre le aziende che hanno partecipato a questa possibilità di riconversione sono molto serie, ci danno quelle garanzie da un punto di vista di sostenibilità e soprattutto ci danno l'opportunità di recuperare intorno al 70% dei lavoratori che erano impegnati. È una bella scommessa che grazie alla perseveranza, alla lungimiranza, alla coerenza che i sindacati confederali insieme alle organizzazioni aziendali hanno portato avanti, ci ha permesso di condividere questo percorso che è veramente per noi una meta importante. Illustrato a Pescara dal sottosegretario alla giunta regionale Mario Mazzocca e dall'attuale governance il nuovo piano del Parco Nazionale della Maiella. Vediamo. Il nuovo piano naturalistico del Parco della Maiella è in realtà un piano concordato con gli enti locali, Mazzocca? Sì, un'area protetta nazionale ha di per sé un valore assoluto e quindi elaborare una governance che si sposi da un lato con le esigenze del territorio ma soprattutto con le peculiarità che il luogo riesce ad esprimere e il valore assoluto che in termini collettivi e totalizzanti questa realtà credo che sia un passo importante soprattutto nel momento in cui si aggiorna una vecchia normativa che se all'epoca poteva avere una ragione di esistere nel momento in cui si inserivano dei punti fermi dei paletti per mantenere lo stato quo e sicuramente all'epoca lo avevano adesso chiaramente deve essere aggiornata con una conoscenza dettagliata sicuramente amplificata dai vent'anni di esperienza trascorsi dal Parco Nazionale della Maiella. Pertanto, faccio solo un esempio, dai dati che abbiamo a disposizione, le zone A, ovvero quella massima protezione, sono lievitate da oltre il 20%. Un piano approvato da tutta la comunità del Parco, quindi dall'intero territorio, dai 39 comuni facenti parti del Parco e come ha detto lei giustamente è un nuovo piano, praticamente dopo 20 anni andiamo un po' a rivedere quelle che sono le esigenze naturalistiche del momento in base a tutto quello che è accaduto da un punto di vista ecologico, naturalistico e quant'altro e più che altro va a definire in una maniera puntuale quelle che erano delle interpretazioni a volte non effettivamente giuste per quelle che venivano prese e quindi delle regole ben certe. Esperienza positiva per i produttori della nostra regione al villaggio Coldiretti di Roma ma la manifestazione del Circo Massimo è stata soprattutto un momento di riflessione con i produttori per fare il punto della situazione a due anni dalle scosse che hanno colpito fortemente le regioni del centro Italia dove si registrano cali di vendite di quasi il 70%. Pietro Paolo Martinelli, produttore di uno dei formaggi più importanti dell'Abruzzo ovvero il pecorino di Farindola, si è stato uno dei tanti protagonisti al villaggio Coldiretti di Roma ma è il dato che fa più allarmare questo meno 70% dell'evento dovuto allo svuotamento dei piccoli centri. È stata innanzitutto un'esperienza molto positiva quella del villaggio Coldiretti di Roma dove si è registrata un'affluenza al di sopra di ogni aspettativa e soprattutto abbiamo potuto riscontrare che il pubblico ha apprezzato molto i nostri prodotti. Per quanto riguarda il discorso legato invece al calo delle vendite abbiamo assistito dopo gli eventi del 2016 e 2017 a un calo dei passaggi soprattutto nel periodo estivo dove registravamo l'affluenza più importante e quindi anche le vendite dei nostri prodotti. Ricordiamo che la vostra struttura è stata fortemente danneggiata dalle nevicate e dai terremoti degli anni passati a che punto è la vostra ricostruzione? Siamo abbastanza fermi anche se negli ultimi periodi sembra muoversi qualche cosa però allo stato attuale è pressoché tutto come all'epoca continuiamo ad andare avanti in situazione molto rimaneggiata cerchiamo di fare necessità virtù e di andare avanti con quella parte di strutture che era rimasta fortunatamente in piedi dopo l'evento calamitoso di gennaio 2017. Mercoledì prossimo il presidente della provincia dell'Aquila assieme ai tecnici effetterà un sopralluogo nella strada provinciale che va da Aringo a Campotosto chiusa dal dicembre del 2017 per Frana. Protestano commercianti, allevatori e amministratori per un'arteria ritenuta assolutamente fondamentale. Un incontro mercoledì prossimo per verificare la situazione della strada provinciale 2 da Aringo a Campotosto chiusa dal dicembre 2017 per Frana. È l'esito dell'incontro avuto in provincia dove ci sono stati il consigliere regionale Pietrucci e alcuni amministratori delle zone ricevuti dal presidente della provincia Angelo Caruso. Al centro delle rivendicazioni la questione appunto della strada provinciale 2 da Aringo di Montereale a Campotosto interrotta da una frana ma è ripristinata, nonostante la provincia abbia ricevuto nel luglio scorso i fondi necessari della regione grazie a una misura approvata su impulso dei consiglieri Pietrucci e Di Nicola. È una situazione che definire intollerabile è riduttivo, ha detto Pietrucci. Parliamo di un'interruzione viaria che strozza le attività commerciali dei pochi eroici cittadini che continuano a vivere in quell'area. La beffa sta nel fatto che i fondi necessari sono a disposizione e non si spendono per inerzia ma compito degli amministratori, specialmente quando siano di fronte ai problemi di cui sono vittime popolazioni che già tanto e troppo hanno dovuto patire, è risolvere e non rallentare. Abbiamo una responsabilità morale nei confronti della popolazione dell'Alto Eterno in primis, ma soprattutto nel caso di specie, di quella di Campotosto. Caruso ha assicurato interessamento, mercoledì prossimo ci sarà un sopralluogo per tentare di riaprire la strada almeno ad una corsia. Per riaprirla completamente servono 800 mila euro. No, sostanzialmente abbiamo, certamente abbiamo dato un impegno puntuale e preciso ma era un po' la conseguenza dei provvedimenti assunti. Cioè all'esito un po' della ricognizione dei fondi, stabilito con la produzione di cittadini quali erano le effettive disponibilità, chiarito il concetto che fino ad allora aveva in qualche modo lasciato questa incertezza, cioè se avesse agito la produzione civile o la provincia, chiarito tutto questo, noi abbiamo avviato le azioni e quindi le attività da porre in essere. Mercoledì, cioè la data dell'appuntamento prefissato, servirà a definire tempi e modalità di intervento che dovranno essere più duramente ancorate ad azioni urgenti e tempestive. Circa 800 mila euro. Questa consentirà, questa prima fase, di riaprire la prima corsia, cioè ad una sola corsia, senza un unico alternato. Poi si vedrà, strada facendoci, arriveremo. Adesso apriamo la pagina di sport. Dopo le doppie sedute degli ultimi giorni, il Pescara tra poco sarà impegnato in un amichevole con i Nero Stellati allo stadio Ricci di Prato Lappedigna, alle ore 15, formazione del campionato di eccellenza abruzzese. La gara chiuderà la settimana di lavoro dei Biancoazzurri, che domani riposeranno. E poi domenica torneranno al lavoro per preparare l'anticipo di campionato di venerdì prossimo alle ore 21 in casa dello Spezia. Allo stadio Picco ieri sera per il Biancoazzurri, intanto serata conviviale al ristorante Terrazza Verde a Pescaracolli. Domani mattina, dalle 9.30, importanti personalità del mondo del calcio interverranno invece al convegno organizzato all'Auditorium Petruzzi di Pescara dal club Donne Biancaazzurri, presieduto da Nella Grossi. E dunque campionato di Serie B fermo, invece in Serie C si gioca, domani scende in campo il Teramo, conferenza stampa pregara per il tecnico Giovanni Zichella, domani la sfida molto delicata a Rimini con un cambio di modulo, il Diavolo infatti si presenterà con il 3-5-2. E sulla questione modulo, proprio Zichella questa mattina ha rivelato un retroscena che tira in ballo anche il presidente Luciano Campitelli. Ci dice di più dallo stadio Bonolis, Agna Cantagalli. Gara spartiacque domani per il Teramo al Romeo Neri di Rimini, contro una squadra che non ha mai perso fino a questo momento, la formazione di Zichella si gioca tanto, lo stesso Zichella si gioca molto della sua permanenza futura sulla panchina del Diavolo. Zichella che ha confessato questa mattina in conferenza stampa di aver visto fino a questo momento un Teramo dalla doppia personalità, ovvero molto bene negli allenamenti, molto meno bene in gara, cosa che proverà ad ovviare già da domani. La mia panchina è come vi ho sempre detto, ma anche se dovessimo vincere a Rimini è sempre in discussione, ma non perché c'è Zichella o perché c'è un altro, perché la panchina allenatore, ve l'ho detto tantissime volte queste cose, è una squadra che ha una doppia personalità questa. In allenamento è una squadra fantastica, vedo delle giocate fantastiche, ma anche non solo nello stretto, uno dice vabbè sono calciatori che giocano bene nello stretto, giocatori, no, anche quando noi lavoriamo molto in 10 contro 10 a campo aperto e vedo delle giocate importanti, le stesse giocate che non vedo in partita, quindi dal momento in cui riusciremo a fare quello che proponiamo e che loro fanno in allenamento in partita, noi ci mettiamo in carecchiato con tutte le altre squadre e faremo bene. Il 4-3-3 andrà, almeno per il momento, in soffitta, spazio al 3-5-2 provato più volte nei giorni scorsi in allenamento, 3-5-2 di cui non farà parte Nebil Caidi che non verrà convocato per lo stiramento rimediato la scorsa settimana, anche se il difensore nei giorni scorsi ha partecipato a qualche seduta con i compagni, ma si proverà ad averlo a pieno regime per mercoledì prossimo, per Teramo Fano. Dubbi tanti di formazione per quanto concerne l'11 titolare, in attacco e ballottaggio a 4 tra Bacio Terracino, Piccioni, Barbuti e Direnzo per due maglie, mentre a centrocampo sembra favorito Persia su Ragneri e Proietti per una maglia da titolare. Il modulo presidenziale mi dice che lei è il 4-3-3, perché noi ci siamo trovati a metà maggio, io e il presidente da soli, a Rosetto degli Abruzzi, e lui mi aveva detto se quest'anno era possibile giocare con il 4-3-3, quindi gli ho detto no, non ho nessun problema, qualsiasi modulo va bene, anche se io gli ho detto che ogni allenatore ha un suo modulo, a me sarebbe piaciuto giocare con il 4-2-3-1, è lo stesso modulo che abbiamo adottato contro la Reggiana in una settimana, e lui mi ha detto no guarda, preferisco, queste sono le sue parole, che ci sia un centrocampo a tre, perché in C giocare con un modulo a due e con un centrocampo a due è difficile, facciamo il 4-3-3, e questo è il modulo, come dice lei, presidenziale. Io volevo aspettare le prime cinque partite, vedere come reagiva la squadra a questo sistema di gioco, secondo me abbiamo fatto metà delle cinque partite abbastanza bene, l'altra metà no, e quindi l'allenatore adesso trova delle soluzioni diverse, ma non è il presidente che mi impone il modulo, non è il presidente che mi impone la formazione, perché fino a oggi, non so domani, non mi ha mai detto fai giocare Tizio o Caio, ma mi chiede la formazione mezz'ora prima, un'ora prima, e lui fa sono d'accordo con te, fino adesso è sembra andata così. Appena iniziamo a fare questi benedetti punti, perché quella è la cosa importante, al di ieri D invece il Giulianova ha tesserato ieri l'attaccante esterno Fabio Mangiacasale, il giocatore nel 2013 ha indossato per sei mesi, lo ricorderete, la maglia del Chieti nel seconda divisione, lo scorso anno invece ha militato in Serie C nel Siracusa. Intanto la gara di Coppa Italia col Cassino ha confermato la buona condizione dell'attaccante Francesco Di Paolo, che ascoltiamo nell'intervista. Una stagione che per te è nata sotto buoni auspici? Sì, sicuramente anche grazie alla squadra ho iniziato bene la stagione, spero di continuare così, oggi questi due gol mi daranno ancora più forza per andare avanti, l'importante era passare il turno e continuare così. E anche testare la vostra capacità di reazione dopo la prima sconfitta stagionale, quella di Francavilla? Sì, purtroppo domenica è arrivata una sconfitta, secondo me meritata, perché se andiamo a vedere alla fine le azioni importanti, secondo me meritavamo qualcosa di più. dovevamo reagire e ce l'abbiamo fatta, quindi continuiamo così, adesso testa domenica perché ci sarà un'altra battaglia con una squadra forte. Che gara immaginate domenica prossima contro una squadra con una delle più quotate del campionato? Sì, come ha detto lei è una delle più quotate del campionato, quindi adesso pensiamo a recuperare le energie e poi domenica sarà una battaglia. Vogliamo vincere perché sappiamo la nostra forza e niente, dobbiamo vincere domenica. L'ultima, che differenza c'è tra giocare con Tozzi Borsoi e giocare senza di lui con un giocatore come Torelli che è un finto attaccante? Sicuramente con Romano mi trovo molto bene perché sono tre anni che sto con lui, è uno che fa la guerra là davanti, mi crea molti spazi, quindi sono più avvantaggiato sotto questo punto di vista, però devo dire che anche oggi con Torelli mi sono trovato molto bene. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.